Cari amici, io l'ho sempre detto, la caccia non è più uno sport all'aria aperta, un modo di passare il tempo. La caccia è un presidio costante sull'ambiente. Ecco, il cacciatore rappresenta un vero controllo, è la sentinella dell'ambiente. Quante alluvioni, quanti incendi sono stati segnalati dai cacciatori, quante persone scomparse sono state ritrovate, purtroppo morte, dai cacciatori. Ora il cacciatore è una sentinella dell'ambiente anche per quanto riguarda le malattie. La peste suina purtroppo è alle porte, il cacciatore, soprattutto il cacciatore formato, che è obbligato a consegnare dei reperti alle ASL, può indicare il primo segnale di pericolo e si può intervenire di conseguenza. Ecco, questo serve anche a mettere in salvo alcune industrie nostre d'eccellenza. Immaginate soltanto al crudello di Varma, immaginate ai prosciutti di San Daniele. Sono delle industrie che esportano delle nostre eccellenze all'estero. Ecco, il cacciatore è il custode anche di alcuni settori della nostra economia. Grazie a tutti.